La città del mondo in cui sono stato più volte per passione, per lavoro, è sicuramente New York. New York è uno di quei posti che ti offrono uno sguardo molto particolare sull'Italia, a cominciare dalla nostra cucina. Sicuramente, come ci ha spiegato anche ieri Roberto Paris del buco di New York, New York resta la piazza più importante per l'enogastronomia italiana, la piazza che sviluppa il maggiore volume d'affari, la piazza che ha più interesse. Ma è anche la piazza che ha la più curiosa capacità di rielaborare la cucina italiana. In qualche caso, tanto per farci subito dei nemici, come nel caso della carbonara o nel caso degli spaghetti alla bolognese, l'hanno rielaborata, ce l'hanno restituita e noi l'abbiamo fatta nostra. Con l'effetto Cian d'Alfredo per fortuna non ci sono riusciti, con gli spaghetti and meatball ci ha pensato Disney, con Lili il vagabondo. Però in realtà c'è un filo continuo, un filo di reciprocità, un filo che a volte è di amore e odio, perché poi noi diciamo che schifo come mangiano gli americani, ma poi se andiamo a vedere quante sono le cose che abbiamo copiato, magari grazie alla TV, grazie alle mode, grazie alle tendenze del fitness, sono veramente tante. Noi abbiamo provato a giocare questa volta al contrario. Abbiamo provato a dire tu boffa all'italiano e lo facciamo con tre protagonisti molto particolari, anche un po' inattesi. Il primo è Maurizio Molinari, direttore della Repubblica, che mi ha insegnato tante cose di New York, anche in lunghe passeggiate nella città che si addormentava. Luigi Diotta Iuti, chef e patron del ristorante Al Tiramisu di Washington. Un posto dove non è raro veder pranzare e cenare anche qualche Presidente degli Stati Uniti. E poi la presenza più inaspettata di tutte, perché è un osservatore dell'Italia, un antropologo, una firma di Repubblica e una firma del gusto, oltre che uno scrittore, Marino Gnola. Se mi permettete comincio da Maurizio Molinari. Ma un romano di testaccio, appena arrivato a New York, cosa mangiava? Ricordiamo anche quanti anni ci sei stato. Io sono stato a New York dal 2001 al 2014, una città che è diventata parte della mia vita. Quando sono arrivato c'era una tempesta di neve, era il 14 gennaio del 2001. ero in un posto, in un albergo, in una residence, che si chiamava Sutton Place, nell'East Side. Naturalmente, essendoci la tempesta, non sapevo bene cosa fare per mangiare. Di fronte al Sutton Place c'era un diner. Entrai nel diner e scopri incredibilmente che questo diner era un cibo cinese straordinario. Quindi sono diventato addicted a questo. La realtà vera è che in questi 14 anni a New York ho scoperto quanto in questa città il cibo descrive gli abitanti. Questo è qualcosa di straordinario, di avvincente. In una nazione multietnica e multidentitaria come gli Stati Uniti, New York sono la capitale del mondo, cioè riassumono l'identità del mondo. E questo vale anche per il cibo italiano. Io stesso ho avuto bisogno di tempo per capire quanto le differenti tipologie di cibo italiano che sono accessibili a New York descrivano la storia del nostro Paese. Fondamentalmente io riassumerei questa storia e queste tipologie di cibo in tre grandi periodi. Sicuramente la prima è quello che in generale gli italiani chiamano come il cibo italiano-americano che è frutto dell'arrivo dei primi migranti negli Stati Uniti. I nostri migranti arrivano alla fine dell'Ottocento in grandissimo numero. portano con loro i cibi tradizionali delle loro regioni, delle loro città di origine e via via con il tempo lo mischiano e lo sovrappongono con gli ingredienti che ci sono a New York e negli Stati vicini e soprattutto anche con le abitudini alimentari che assumono e fanno proprio dagli americani. Si crea quindi un mix e queste tribù italiane che sono tribù campane, tribù siciliane, tribù venete fondamentalmente quindi traducono e calano i loro cibi nella cultura culinaria del Paese. Ne escono dei piatti che oggi gli italiani non possono riconoscere come propri ma che per gli italo-americani invece hanno un valore fortissimo, identitario la parmigiana, poi ce ne sono tantissimi però il punto vero è questo, quando uno entra in un ristorante italo-americano non solamente nei quartieri di Brooklyn o New York che sono quelli dove le comunità originarie ancora vivono in quel mondo ma anche in alcuni locali di New York tu ti immergi nel mondo di una volta, nella cucina di una volta che attenzione in molte famiglie italo-americane ancora persiste come cibo italiano per noi in realtà è un cibo italo-americano questa è la prima dimensione e questo tipo di cibo poi io qui parlo di fronte a persone che ne sanno molto più di me ma io parlo semplicemente da caronista questo tipo di cibo ha sostanzialmente tenuto banco a New York io direi fino agli anni Ottanta l'esponente più rinomato uno dei, si potrebbe fare molti nomi sicuramente è stato Silvio Maccioni con l'ESERC che ha trasformato il cibo italo-americano in un grande cibo di qualità a New York ma era il cibo italo-americano quello che succede negli anni Ottanta è che a Manhattan e a New York arrivano gli italiani come noi gli italiani di ultima generazione che parlano il nostro italiano hanno le nostre abitudini alimentari i nostri punti di riferimento guardano la televisione italiana restano costantemente in rapporto con il paese che hanno lasciato questi, chiamiamoli nuovi italiani di Manhattan e di New York non hanno nulla a che fare con le famiglie italo-americane di prima nulla parlano un'altra lingua hanno un'altra idea dell'Italia hanno altre abitudini alimentari ma dove vanno a mangiare? che cosa mangiano? e quindi arriva a New York un'altra cultura alimentare via Quadronno, Bastianich, San Domenico aprono locali, caffè, Sant'Ambrose aprono, anni 80, 90, inizio del 2000 aprono locali e posti dove gli italiani che arrivano possono mangiare esattamente come a Milano, Bologna, Roma o Napoli con un livello di qualità, attenzione, che è assolutamente competitivo con la qualità italiana quindi ci sono, convivono nello stesso spazio umano a New York due tipi di cucina italiana completamente diversa ed è affascinante perché tu puoi passare da un ristorante a pranzo dove si mangia la parmigiana come fanno gli italo-americani e ti servono il caffè con il limone perché così si faceva per quelli che arrivavano a bordo dei transatlantici e quindi avevano bisogno del limone per non rigettare e poi la sera invece vai a mangiare da San Domenico i spaghetti a caccia e pepe esattamente come si mangia in Italia anzi forse meglio questa capacità di New York di far persistere realtà storiche diverse congelate nel tempo rende questo spazio umano assolutamente unico ma c'è anche una terza dimensione che è quella che ho lasciato che era più avvincente quando nel 2014 il Lascio New York si stava affacciando poi è cresciuta molto ed è la dimensione quando i cibi italiani assolutamente italiani ricordo ad esempio un ristorante a New York si chiamava La Tusca adesso La Tusca sta a Washington ma quando aprì al Chelsea Market dove praticamente tu hai piatti italiani ma con ingredienti americani cioè ad esempio invece del peperoncino il jalapeno allora quindi tu hai il piatto assolutamente italiano con il sapore italiano ma l'ingrediente è declinato sulla cucina locale tutto questo per dirvi che anche visto insomma dall'interno dei ristoranti e dei piatti da consumare New York è una straordinaria esperienza nel cibo italiano ecco vedete come il cibo racconta le persone come il cibo diventa un racconto antropologico vero Marino? grazie sì è proprio così come dice Luca e come diceva un attimo fa il direttore Molinari noi pensiamo di raccontare il cibo in realtà è sempre il cibo che parla di noi e ci racconta le nostre mutazioni e in questo caso racconta proprio la parabola del cibo italiano in America negli Stati Uniti ma non solo negli Stati Uniti perché il cibo italiano in realtà è stato protagonista di una piruetta gloriosa io dico che è durata più di un secolo perché all'inizio del novecento quando con le prime migrazioni il cibo italiano non era amato noi pensiamo sempre che l'Italian food sia un mito planetario è vero oggi ma non era affatto vero allora quando nel 1905 Gennaro Lombardi apre la prima pizzeria a Manhattan ci vanno solo gli italiani ci vanno i meridionali ed è così fino a metà del novecento Carlo Levi in un articolo che il direttore conosce sicuramente meglio di me è uscito sul New York Times nel 1947 va in un ristorante lucano di Manhattan e scrive una cosa incredibile dice io sono ero a Manhattan entrato in quel locale non ero più negli Stati Uniti ero nella Basilicata che lui aveva lasciato da poco Levi come confinato e dice mi sono portato apposta la citazione e quando conversai con il padrone al ritmo di una musica nera del jukebox ritornai in spirito alle desolate argillose lande della Lucania questo per dire come questi luoghi del cibo italiano fossero luoghi per gli italoamericani per gli italiani ci andavano poco i new yorkesi non so ecco andavano al Grotto Azzurra sempre a Manhattan per vedere Caruso mangiare gli spaghetti perché non sapevano mangiarli e Arthur Rubinstein il più grande pianista del novecento raccontava che una sera Caruso si stufò di quell'attenzione indiscreta buttò via la forchetta e si mise a mangiare gli spaghetti con le mani un gesto da miseria e nobiltà macchiandosi la camicia quella camicia macchiata secondo me una grande bandiera dell'Italia gastronomica ecco e poi via via è cambiato tutto c'è quella c'è una specie di cesura di quella fase che è riassunta mirabilmente da un film di Scorsese Italian American che è un documentario in realtà che Martin Scorsese gira in casa dei suoi genitori e in che cosa consiste sua madre Catherine prepara le polpette e racconta mentre prepara le polpette la preparazione è scandita dal racconto dell'epopea italiana dei migranti italiani negli Stati Uniti da quando il papà di Scorsese racconta si guadagnava un cent perché il sabato andavano ad accendere il fuoco nelle case degli ebrei che non potevano accenderlo di sabato un racconto meraviglioso poi invece comincia la fase nuova una fase nuova che probabilmente ha una cerniera proprio negli anni 50 quando per la prima volta nelle fiere campionarie americane le macchine per produrre la pizza superano le macchine per scaldare gli hot dog si vendono più macchine per la pizza che macchine per l'hot quello è l'inizio del cambio poi lentamente il cibo italiano significherà sempre di più qualità alta significherà appunto significherà anche un sorpasso sulla cucina francese che fino a un certo momento anche negli Stati Uniti è sinonimo di qualità oggi il cibo italiano è sinonimo di qualità di salute e di sostenibilità e quello probabilmente lo rende poi il cibo esemplare basta entrare in mercati come Whole Foods a Manhattan e si scopre che buona parte del cibo è cibo italiano la stessa cosa se si va da da Lou Di Palo Lou Di Palo è una persona che in un paese che è meno sgangherato del nostro avrebbe come il minimo una croce di cavaliere perché lui propaganda qualità italiana altissima qualità italiana oltre a fare la miglior mozzarella di Manhattan e organizza ogni anno per i suoi clienti di riferimento Scorsese va abitualmente anche Coppola fanno la spesa da lui li porta in giro per l'Italia a scoprire piccole realtà produttive artigianali ecco questa è la gastronomia italiana di oggi che è rappresentata poi anche da personaggi come il nostro amico sono contento del riferimento che hai fatto al rapporto con la cucina francese perché gli Stati Uniti ci hanno insegnato prima di quello che noi abbiamo fatto in Italia a rompere questa sudditanza io non ho problemi a dire che la cucina italiana è meglio della cucina francese ma non lo dico perché sono italiano perché ci sono altre cucine mondiali che le giudico alla pari se non in corsa con quella italiana ma la cucina italiana è unica perché ha una varietà di dialogo costante attraverso le classi sociali attraverso le varie realtà è accogliente inclusiva trasversale e questo la francese non ce l'ha e quindi la francese non ha la capacità di trasformarsi ci sono delle classifiche mondiali oggi la più importante fotografia della cucina mondiale è la classifica di 50 best dei 50 migliori ristoranti del mondo dove gli italiani sono molto più importanti e molto più di riferimento dei francesi oggi lo chef più influente di Francia è un signore che si chiama Mauro Colagreco un grandissimo chef che ha la ristorante a 50 metri dalla frontiera italiana ed è un po' argentino e un po' italiano nato in Francia ma un po' argentino e un po' italiano per cui porta quella capacità di essere trasversale che la cucina francese non ha più avuto ma io credo che una forza della cucina italiana in America sia proprio quello di adattarsi di trasformarsi di fare esattamente quello che diceva Maurizio cioè di diventare la loro cucina dove il loro però è un concetto talmente ampio che prende gli italiani e gli irlandesi ma tutto questo facciamocelo raccontare da qualcuno che quel mondo lo vive tutti i giorni e non da ieri Chef lei cosa ne pensa? Intanto buongiorno a tutti grazie per essere qua un saluto all'Italia e perché è una bellissima giornata potevate stare tranquillamente fuori invece avete scelto di ascoltare me e noi bene c'è tanto da dire tutte e due avete detto delle cose sacrosante permettetemi di dire che intanto la cucina italiana è la più usata al mondo ma forse anche la più abusata e qui dovremmo fare forse molto di più gli italiani ha detto lei direttore della cucina italo-americana io andrei un attimino devo spezzare per forza una lancia a favore dei nostri poveri immigrati di tanti anni fa guardate che adesso it's cool è figo essere italiani in America gli americani sognano il primo sogno che hanno è intanto mangiare o vestire italiano ma andare in Italia però non è sempre stato così io sono 33 anni che vivo là ovviamente mi informo ho delle statistiche pensate che agli inizi del novecento c'erano le tabelle di quanto guadagnava un americano di quanto guadagnava un africo americano e quanto guadagnava gli italiani gli italiani erano gli ultimi sotto ancora sotto degli schiavi se possiamo dire poi dopo c'è stato il conflitto mondiale e ovviamente non era facile essere italiani durante la seconda guerra mondiale e subito dopo tutti gli italiani hanno dovuto la maggior parte cambiare nome non parlare la lingua starsene zitti zitti perché se no venivano linciati semplici quindi ovviamente le tradizioni le ricette basta pensare che forse gli ingredienti le ricette non spariscono mai una cultura può essere distrutta si può distruggere un popolo e si può distruggere una lingua ma le ricette non muoiono mai e molte sono rimaste incapsulate diceva bene lei direttore di quelle ricette di una volta eccetera però per la seconda terza generazione anche quarta per loro è intimo perché appartiene alla loro nonna la loro bisnonna è un paese che ha meno cultura di noi quindi per loro è fondamentale è forte è un tesoro ma bisogna anche capire perché c'è rimasto anche questo io ho avuto delle esperienze personali anche con gente di un certo livello ne posso citare una a Leon Panetta che è stato prima cifo staff poi capo della CIA poi segretario della Defesa se non sbaglio e veniva sempre e viene sempre al tiramisù e lui parlava un dialetto a calabrese stretto io vengo da Lago Negro a 8 km dalla Calabria quindi un po' me la cavo tra l'altro a me piacciono i dialetti in particolare però dovevo beccare tre parole secche di dialetto per capire quello che diceva e lui era convinto di parlare italiano ordinava per la sua tavolata ed erano problemi che poi bisognava decifrare cosa volevano ecco perché perché anche quello c'è il dialetto è incapsulato un po' come io questo lo capisco perché ripeto vengo ancora dalla Basilicata e Calabria dove abbiamo albares la cultura paesini ancora incapsulati che vengono dalla Grecia oppure dall'Albania perché durante le loro persecuzioni e loro hanno la loro religione le loro usanze un greco che non si parla neanche più in Grecia questo è successo anche ai nostri italiani sia in Argentina e sia nel Nord America in esempio spesso vado nel Sud America ho tantissimi clienti perché gli argentini sono attaccati all'Italia quindi vedono un ristorante italiano e ci vanno dentro la prima cosa che domanda non sono gli gnocchi perché c'è la cultura che il 27 da noi si mangiavano gli gnocchi perché chi prendeva lo stipendio dello Stato lo riceveva il 27 quindi la mamma era contenta vado in cucina faccio la pasta fatta in casa ecco certe tradizioni che forse da noi sono sono un po' sparite però io sono arrivato il primo aprile il prezzo d'aprile del 90 quindi sono a cavallo del vecchio e del nuovo e quindi ho visto il tsunami io lo chiamo così di quello che è stata la rivoluzione della ristorazione del cibo in America hanno fatto tantissimo negli ultimi 20 anni ma c'è ancora molto da fare questo è vero ovviamente quando sono arrivato io c'è stato il boom della moda c'è stato da allora adesso ripeto per gli americani andare in Italia o comunque accostarsi cioè nel senso di mangiare o vestire o dire qualcosa in italiano è molto molto importante cioè è il sogno di quasi tutti gli americani venire in Italia o comunque mangiare o vestire c'è da dire però per quanto riguarda la cucina non solo l'Italia è la prima come ho detto ma di qualità la nuova tendenza di tutti i ristoranti americani di New America so call così chiamata è un po' un melt in post ovviamente di tutte le etniche che già questo paese lei direttore quindi ne avrà visto perché essendo vissuta è normale che sia stato contatto quindi ci sono diversi piatti una cosa che mi colpisce che bisogna dire è che per esempio i nostri prodotti fanno parte del vocabolario americano tre anni fa se non sbaglio la parola prosecco è diventata ufficiale vocabolario dell'America come per esempio in tutti questi ristoranti che dicevo per loro per dire no il calamare non si dice calamari ma si dice squib non c'è un ristorante americano non c'è un americano che ti dice squib calamari voglio il calamari ecco perché nei loro ristoranti ci sono le parole che sono ormai ufficiali sono mozzarella focaccia burrata pasta calamari prosecco e tante altre cose che non c'è traduzione è parte corrente proprio perché sono così usati tra loro che è diventata parte della loro cultura addirittura c'era una lotta che volevano che la pizza fosse naturalizzata di New York Maurizio ma quando tu in tutti quegli anni americani se ti capitavi di avere nostalgia dell'Italia c'era qualcosa che ti andavi a mangiare c'era un momento gastronomico un tuo modo di ritrovare l'Italia in quello che mangiavi assolutamente sì io stavo nel era nel Upper West Side e sul Columbus 83 83 84 aveva aperto un ristorante senza insegne di un ragazzo italiano che faceva degli spaghetti al sugo straordinari io appena potevo e portavo andavo prima da solo poi con mia moglie a mangiare questi spaghetti al sugo perché era un momento fondamentalmente di di ritrovare me stesso e di ritrovare i sapori che sentivo miei gli spaghetti al sugo sono secondo me una chiave molto importante parlando di un piatto particolare per raccontare quanto lo chef ci ha appena detto ci sono due episodi che mi fa piacere condividere con voi allora il primo è un incontro con George Grasso George Grasso è stato l'ex capo della polizia di New York e lo era anche durante l'11 settembre un grande poliziotto una persona di un coraggio straordinario e dopo tanta fatica era dopo l'11 settembre forse l'anno dopo riesco a intervistarlo e ci incontriamo a New York questo uomo alto poteroso poliziotto fino alla fine un uomo che aveva rischiato la vita l'11 settembre per aiutare i suoi colleghi sotto le macerie e iniziamo questa conversazione e lui a un certo punto inizia a piangere io faccio Chief Grasso dico ma perché se guardi io mi devo scusare con lei ma io non riesco a parlare italiano dico Chief Grasso non c'è nessun problema possiamo parlare in inglese dice no io vorrei parlare in italiano questa è la storia che stava raccontando prima lo chef perché perché c'è una generazione di italiani che è stata cresciuta dai genitori e dai nonni con l'obbligo di non sapere l'italiano perché per essere integrati pienamente in America dovevano fare due cose dovevano prima innanzitutto parlare soprattutto in inglese e secondo vestire una divisa e quindi adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo lei sa tutto piano piano e quindi prima era parlare in inglese e secondo vestiva una divisa e quindi naturalmente andavano nella polizia andavano nei compieri o andavano nella sanitation cioè la nettezza la nettezza urbana perché vestiva una divisa dava una dignità allora io però in questa conversazione mi faccio dico ma lei allora se lei non parla italiano in che cosa consiste la sua identità italiana e lui mi guarda e mi dice in quello che ogni domenica a mezzogiorno noi mangiavamo a casa che cos'era? spaghetti al sugo attenzione quindi stiamo parlando del numero due della polizia di New York che descrive la sua identità italiana attraverso il cibo che ogni domenica la madre gli faceva a lui e a tutta la sua famiglia che erano gli spaghetti al sugo quindi per lui quello che per noi è un piatto normale tradizionale per lui era l'identità e questa è una cosa fortissima la prima cosa il primo episodio il secondo episodio sempre sugli spaghetti al sugo e allora come voi sapete in America gli italiani americani mangiano gli spaghetti con meatballs ok? quindi naturalmente questo è uno dei piatti invece con le polpette che appartiene alla tradizione italiana americana io dovevo fare un libro che poi uscì con il titolo italiano in New York e quindi andai a esplorare in più quartieri di New York quella che era l'identità italiana nel fare questo naturalmente uno deve incontrare tutte le identità che ci sono sul territorio e nel Bronx alla fine dopo un lungo corteggiamento accettò di incontrarmi un personaggio molto forte da un punto di vista identitario di quell'area del Bronx che veniva da una città della Sicilia diciamo è uno di quei personaggi molto borderline che mi diede appuntamento nel suo ristorante alle 12 a mezzogiorno io mi presentai e il ristorante era chiuso era proprio fisicamente chiuso io naturalmente dico strano che questo mi ha dato lì appena arrivai di fronte alla Saricinesca ci fu una persona che si presentò e mi disse lei mister Molinari non si deve preoccupare mi apre la Saricinesca io entro in questo ristorante assolutamente tutto perfetto imbandito come se dovesse accogliere la clientela un momento all'altro tutto vuoto cioè non c'era niente nessun essere umano ma era perfetto l'uomo alla Saricinesca richiude la Saricinesca io mi trovo da solo in questo e faccio che si fa parlo con l'unico essere umano che ho visto questo è un posto bellissimo lei vede alla fine del corridoio in fondo alla sala c'è una porticina sulla destra lei prende la porticina e scende io prendo la porticina e scendo e scendo e capisco che sto andando verso la cucina fino a quel momento non ho incontrato nessuno attenzione nessuno scendo arrivo in questa cucina grandissima dove ai fornelli c'è un'unica persona il proprietario lui da solo che aveva un grembiule con un tavolo da cucina con due sedie per me e per lui e lui stava cucinando faccio dico guardi mi fa piacere con noi finalmente la incontro dice guardi lei si mette a seduta e adesso cucino io quello che io ho deciso guardate va benissimo che cosa stava cucinando gli spaghetti al sugo una roba piccanti e mi dice guarda non sono gli spaghetti con meatballs ma siccome io e te siamo italiani io ti cucino questo e cucino io mi disse cucino io per te un messaggio di una forza di una potenza tribale mastodonte quindi quando sento parlare di spaghetti al sugo per me New York diventa una cosa vissuta ma vieni ti ho visto annuire talmente tante volte che non posso non darti la parola come seguito a quello che ci ha raccontato Maurizio beh sì perché quello che ha raccontato il direttore è proprio tribale perché dà l'idea proprio di che di che cosa è un piatto di spaghetti al sugo per gli italiani è un cibo totemico vero e proprio quello che mi consente di essere italiano e che forse proprio per questo è diventato poi un piatto amato non solo dagli italiani cioè un'indagine Oxfam del 2012 condotta su 160 paesi ha dato questo risultato il piatto più gradito del pianeta sono gli spaghetti con il pomodoro e basilico forse per la loro semplicità per questa specie di equilibrio e anche per questa arte di rendere nostra qualcosa che non è solo nostra perché se voi ci pensate gli spaghetti col pomodoro e basilico che sono uno degli emblemi l'emblema gastronomico dell'emblema identitario dell'Italia in cucina sono un piatto che sarebbe stato impossibile se dall'America non fosse arrivato il pomodoro quindi vuol dire che l'identità è sempre una forma di contaminazione perché se noi non ci fossimo contaminati con i prodotti americani con le patate con i peperoni con i pomodori pomodori e peperoni sono un uno due di Cristoforo Colombo che porta tutti e due insieme la nostra cucina sarebbe veramente ben poca cosa neanche i fagioli avremmo perché anche i fagioli sono americani quello che i romani chiamavano faseulus non era il fagiolo che noi oggi facciamo con la pasta e con la colatura di alici sempre per complicare le cose quindi da questo punto di vista il racconto del cibo è sempre un racconto di identità perché quando noi parliamo di cibo stiamo parlando di noi stessi e quando rifiutiamo un cibo la cosa si fa inquietante perché non stiamo rifiutando solo un cibo stiamo rifiutando anche chi lo mangia insieme al cibo ecco perché oggi questa tribalizzazione dei consumatori questa tribalizzazione della società a causa delle diete del diffondersi di diete che in realtà sono delle religioni secolarizzate dei precetti vegani vegetariani crudisti e potremmo fare un elenco che dura mezz'ora sono altrettante visioni del mondo somigliano molto alle sette dei primi secoli del cristianessimo dove ci si combatteva attraverso il cibo e quindi si affermava la propria identità rifiutando il cibo degli altri quindi c'è sempre il famoso detto di Feuerbach noi siamo quello che mangiamo o l'uomo è quello che mangia oggi molto spesso è vero il contrario siamo quello che non mangiamo tant'è vero che quando andiamo a comprare i cibi leggiamo le etichette per sapere non quello che c'è ma quello che non c'è e ci rassicura sapere che non ci sono certe cose lo zucchero l'olio di palma e così via il sale l'opposto dei nostri genitori che invece quando compravano dei nostri nonni soprattutto quando compravano un cibo volevano che ci fosse di più era un'addizione alimentare più panna più burro più vitamine più tutto e probabilmente tutto questo centra solo in parte con la fame la differenza è fra che i nostri nonni avevano fame di vita non solo di cibo noi della vita abbiamo un po' paura e riversiamo questa paura sul cibo che comunque nel bene e nel male resta l'espressione più forte dell'identità sia dell'identità che della differenza perché poi non c'è identità che non sia differenza ma se ci pensiamo bene se facciamo un'analisi di noi stessi spassionata ci accorgeremo che la nostra identità è fatta soprattutto di differenze di cose che vengono da un'altra parte che sono state adottate e sono diventate più nostre è vero che il pomodoro duemila anni prima di Cristo lo vendevano in conserve sul mercato di Tenochtitlan gli Astechi però è anche vero che gli Astechi non hanno inventato le nostre conserve e non hanno inventato i nostri ragù un applauso per Marino il viaggio di Maurizio prima del direttore prima dentro questo ristorante di New York mi ha ricordato un'avventura che invece è capitato a me nel 2007 quando ero a Las Vegas per l'asta mondiale del tartufo e dopo questa giornata un po' di persone italo-americane di Las Vegas mi facevano fare un giro di ristorante e il giorno dopo mi invitavano a fare colazione la prima colazione e al di là della tappa obbligata per la prima colazione della persona che mi accompagnava che era peraltro il responsabile dell'azienda che allora gestiva l'importazione di tutti gli alcolici a Las Vegas che era una società sola la tappa in pasticceria comprare i cannoli e poi l'appuntamento alle 9 del mattino per la colazione anzi alle 9.30 causa-fuso-orario era l'appuntamento per la partita del Palermo per cui l'altro grande elemento che unisce è il calcio e tutto quello che diventa identitario ma noi abbiamo parlato di antropologia ecco non lo dica perché qui ci sono alcune persone che mi hanno detto non ci far pensare al derby perché noi non lo guardiamo per te e quindi spero sia una partita tristissima da 0 a 0 abbiamo parlato di antropologia abbiamo parlato di un sacco di cose ma adesso Chef ci racconta che cosa si mangia nel suo ristorante cioè quali sono i punti di forza e il pubblico americano che cosa cerca da lei allora si è parlato prima quasi un po' di classifiche di cibo italo-americano io appartengo per fortuna alla prima quello dell'autentico prima innanzitutto per scelta perché so fare solo quello quindi non mi cimento in qualcosa che non so fare secondo anche per la logistica perché ho un ristorante piccolo ho 14 tavoli perciò se non faccio qualità chiudo il giorno dopo quindi non posso fare quantità per cui il mio menù è molto piccolo lo cambio due o tre volte all'anno perché i piatti che ci sono non sono di stagione invece mi diverto poi con i piatti giornalieri quello che la natura ci suggerisce con i piatti già giorno ci tengo a dire che è stato riconosciuto anni fa molti anni fa allora presidente Oscar Luis di Scafforo ha avuto una placca all'insegna del ristorante italiano al Quirinale per essere a quei tempi uno dei ristoranti più autentici fuori dall'Italia lei prima ha menzionato anche la guida dei top 50 con un pizzico di orgoglio devo dire che il tiramisù è stato premiato anche su quello eravamo al 42esmo posto però devo dire che io qualsiasi cosa che faccio non la faccio mai perché ah magari andrò in quella guida magari andrò che ne so nella Michelin eccetera lo faccio perché è nella mia natura è nel credo quello che faccio e il mio ristorante accoglie è piccolo è così il problema è come far uscire la gente perché sta comoda è basso quindi da un chiedi intimità poi devo aggiungere un qualcosa per la cucina italiana si parlava di quello che è eccetera io vorrei aggiungere che mangiare un bel piatto soprattutto una pasta è come se qualcuno ti abbraccia ti senti comodo ti senti in famiglia ti senti progetto grazie ma io scavo i piatti che vanno di più nel suo ristorante beh allora intanto importo tanto pesce quindi per me ho la fortuna che 18 ore dopo 20 ore massimo i branzini orate i rompi quello che il mare mediterraneo ci dà quindi direttamente dal mediterraneo sì assolutamente sì molti vengono dal come si chiama dall'argentario come sappiamo il mercato centrale è Milano quindi arrivano sull'aeroporto di Filadelfia e poi arrivano sulle piatte di Washington è bellissimo a volte avere queste casse sigillate ancora sporche con il mare e c'è scritto sopra tirami sul già sanno dove va la destinazione quello che è la tecnologia di oggi Maurizio il mondo della cucina italiana secondo te dovrebbe il mondo del gusto dell'enogastromia questo un po' pianeta che è un elemento chiave del made in Italy ma non ha ancora tutta quella consapevolezza che cosa dovrebbe imparare dagli Stati Uniti dovrebbe imparare che il cibo italiano è un elemento strategico del soft power italiano nel mondo che cos'è il soft power è la capacità di trasmettere a chi italiano non è i valori italiani sono milioni gli americani che mangiano italiano ma sono ancora di più quelli che come prima lo chef ricordava attraverso il cibo vogliono essere italiani vogliono conoscere la storia dei prodotti italiani e tanto per fare due esempi il successo di Italia a New York o di Grom a New York si dovette al fatto che loro presentarono i loro prodotti molto diversi raccontando le origini e gli americani si appassionavano a questa capacità di raccontare le origini del cibo italiano nelle singole province nelle singole città nelle singole realtà questo è un questo è un grande elemento cioè la capacità di far sì che chiunque possa sentirsi parte della cultura italiana questo è una potenzialità straordinaria del nostro paese e quello che insegna l'America è che affinché questo avvenga bisogna essere inclusivi cioè tu presenti il cibo italiano la cultura culinaria italiana ma la presenti in maniera che ognuno la possa fare propria non esclusiva non è solamente per pochi e voi dovete imparare ma è una maniera di avere un rapporto con il cibo alla quale tutti in qualche maniera ne possono far parte consentimi su questo di fare un un riferimento anche all'attualità perché secondo me è giusto parlando di made in Italy e parlando di cibo italiano io da caronista sono andato a seguire alcuni degli eventi pubblici dei comizi che Giorgia Meloni ha fatto durante la campagna elettorale e ho sentito fare da lei una descrizione del made in Italy che è quella che adesso vi ripeto fra virgolette made in Italy per lei è un prodotto fatto da italiani con lavoratori italiani in Italia questa è una definizione che non appartiene più alla realtà del mondo il punto è che il numero di persone che producono cibo italiano è superiore anche agli abitanti dell'Italia medesima ci sono italiani di seconda o terza generazione che lavorano a Minneapolis a San Francisco a Melbourne a Buenos Aires a Santiago del Cile che hanno la loro esperienza e producono cibo italiano e lo fanno condividere e questa loro straordinaria esperienza fa sì che il soft power italiano è presente in qualsiasi angolo del mondo tornare all'idea che il made in Italy è solamente prodotto in Italia solo da cittadini italiani consentitemi con grande umiltà di dire che è una reazione archeologica della nostra identità e che limita moltissimo invece le potenzialità di una cultura culinaria che per definizione può raggiungere chiunque nel mondo il direttore ha appena toccato uno dei temi chiave delle linee di guida e di narrazione chiave del gusto e per spiegarlo io racconto sempre una storia che non è una storia ma è un fatto di cronaca alcuni anni fa ormai parecchi anni fa quando il mercato dello champagne è esploso in modo importante in tre paesi chiave del mondo l'India la Cina e il Sud America le grandi maison dello champagne si sono messe insieme e hanno costruito un progetto presentato prima al governo francese poi in questi tre paesi dicendo da voi sta crescendo la moda dello champagne veniamo noi a portare i nostri vitigni a produrre una bollicina che non potrete chiamare champagne ma che va a saturare questo desiderio per cui sono cominciati a uscire in alcuni posti del pianeta la Cina l'India e il Sud America dei prodotti simili allo champagne ma che andavano a incarnare a seguire il filo di una cultura questo ha portato a un radicamento importante dello champagne in quei territori ha portato a una crescita aspirazionale perché questo prodotto era un entry level chi lo assaggiava poi voleva investire e provare lo champagne vero ma garantito da una filiera francese questo è stato fatto e ha portato anche queste aziende francesi a essere in qualche modo premiate dal governo perché hanno fatto esattamente il contrario hanno detto guidiamo noi i processi fuori dal paese siamo noi ad andare fuori e a mantenere però tutto dentro un alveo di francesità loro in questo sono molto più bravi di noi ma l'orgoglio di una nazione è quello non quello che tu hai appena raccontato Marino per la chiusura allora intanto quello che dici Luca è proprio è proprio vero in questo momento il più importante vino cinese in Italia 120 euro la bottiglia lo fa lo Chateau Lafitte e quindi questo dice tutto però è scritto tutto in cinese ovviamente e quindi c'è come si fa a dire se quel prodotto è cinese o francese la stessa cosa succede come diceva il direttore su questa idea a proposito di questa idea del Made in Italy della Meloni è un'idea autarchica del Made in Italy in cui c'è dietro un calco storico profondissimo della nostalgia autarchica ma la storia del Made in Italy ci dice esattamente il contrario perché cos'è il Made in Italy non è solo un fenomeno economico recente è un fatto che viene da lontanissimo e dentro cosa c'è? c'è l'abilità imprenditoriale dei Longobardi la capacità bonificatrice delle terre degli ordini monastici benedettini cistercensi l'orientalismo dei mercanti veneziani che avevano continui rapporti con Istanbul c'è tutto quel riverbero slavo che investe una parte dell'Adriatico da Trieste fino ad Ancona almeno ci sono gli svevi ci sono gli angioini i greci i bizantini di tutto questa è la preziosità del Made in Italy questa storia spessa come un broccato come un drappo è stata fatta nostra e quindi l'Italia è questa roba qui il fatto che l'Italia sia un paese fatto di nazioni ogni pochi chilometri si cambia nazione è anche la ricchezza di questo paese siamo come il mantello di Arlecchino a tavola e non solo a tavola perché siamo uniti dalle differenze siamo diversi ogni cosa ogni piatto in Italia parla di paese parla di provincia parla di famiglia il carré con i crauti fa una la Germania da Monaco fino a Kiel le fritte con con la carne con la bistecca sono la Francia e invece la pasta neanche la pasta riesce a fare gli italiani ma questa è la nostra ricchezza questo è il Made in Italy grazie grazie a tutti